Giuliano è un paese piccolissimo, un po' grande e un po' piccolo, piccolissimo! C'è una scala, ci sono due o tre case, ci sono i fili, le lambadine, i balconi, le finestre, un po' più piccole, con le tegole, posso giocare, posso andare a scuola, posso uscire. Voglio andare a Bologna, ho la maestra o la parrucchiera, la veterinaia, voglio guardare le mucche. Bologna, 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 Bologna! Bologna, 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 Bologna! Bologna, 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 Bologna Si mettono le castagne, il cioccolato fondente, il liquore, le mandorletti tritate, il caio di cannella, e le uova, e due tazze di caffè. E poi si chiude, si tagliano, poi si friggono e si mangiano. Tu valla a buttare nel fuoco, prendi le mandorle, piano piano. Prendi la cioccolata, prendi la cioccolata, prendi la cioccolata. Prendi la cannella, mettiamo un po' di vino, lo zucchero, la cannella, la cioccolata, le castagne, le mandorle. Cominciamo a fare le pastatelle. Le pastatelle? Sto mettendo l'impasto delle castagne nella pasta. Sto chiudendo le pastatelle. Se non ti fai rifatto, tu hai cambiato peccato. Siamo capita? Tu fai così e ti fai una volta sola. Brava. E non bisogna prigere. E' il microfono. Buongiorno a fare le pastatelle. Grazie a tutti.